Nome? Flavio. Beh, mi chiamano in tanti modi. Che tipo sei? Gentile, premuroso. A volte penso un po' troppo. Impulsivo e testato. Hai un sogno nel cassetto? Beh, adesso vorrei costruire in sua carriera, ma dopo vorrei una famiglia. Beh, vorrei avere tante donne e essere più alto. Ti è mai capitato di aver fatto sesso con una ragazza conosciuta il giorno stesso? E se ti accorgi all'ultimo momento di non avere con te il preservativo, cosa fai? Beh, mi lo do parecchio. Magari spero che ce l'abbia lei, altrimenti si rimanda, insomma. Beh, se lei non dice nulla io non mi fermo di certo. Hai mai fatto un test dell'HIV? Beh, sì, è sempre meglio di essere sicuro. No, non credo di averne bisogno, perché avrei dovuto. E tu? Con che parte del corpo pensi? E tu? Con che parte del corpo pensi?